C'è proprio il fisico! Allora, siamo in video selfie, è la chiusura, sono qua con Tedaldi, la fiera è stata veramente bella positiva, signor Tedaldi noi ne abbiamo sentite di tutti i colori, però può confermare che l'unica troupe web che c'è è l'arte tv? Certo! Sì! Confermo che arte tv è la miglior troupe che abbiamo avuto con il film. Altri non ne vogliamo! Altri non ne vogliamo! Fuori! Fuori tutti! Fuori!